La cosa bella della stagione prossima è che ci sarà ancora questo spettacolo straordinario di Alan Bennett, un autore inglese, con la Maria Amelia Monti che è una cosa veramente strepitosa, io l'ho sempre seguita perché è simpatica ma è proprio brava, è diventata matura, profonda e poi simpatica, è una bella donna, no c'è anche Paolo Calabresi, che è uno spirongone alto alto, insomma se non ci fosse la Monti, invece è un autore importante, intenso, una torone, sarà in tantissimi teatri d'Italia e noi tutte le volte che lo vediamo questo spettacolo nei teatri, lo raggiungiamo e siamo contenti perché dovunque c'è lo spettacolo ci siamo anche noi, talmente tanto ci piace, sì. Viviamo comunque lo spettacolo. Ci dà da vivere diciamo.